Quando fa caldo, un caldo infernale, abbiamo avuto dei morti, siamo stati attaccati qui da delinquenti, siamo stati attaccati colpendo alcuni braccianti, lasciandoli un bagno di sangue. Per poter gestire la nostra vita, la regione Puglia ha deciso di appaltare la vita dei braccianti perché neri, alla misericordia, fanno una dotazione di 50.000 euro ogni sei mesi. Questa inchiesta della Procura si svolge all'interno di un tessuto che è fatto di assistenzialismo imprenditoriale, che lucra, che ostacola la libertà, i processi per la lotta contro lo sfruttamento, contro il capolarato. E vogliamo ricordare, non si può appaltare la vita dei braccianti perché neri. Se ci fossero stati qui a vivere dei bianchi, non sarebbe successo la stessa cosa. Libertà! Libertà!